Questo è il negozio ideale per gli appassionati di art e craft, bricolage, ha tantissime cose, fa sempre sconti, danno i coupon via email, si può creare di tutto. Perline, gioielli, tutto per l'arte e craft, contenitori, di tutto. Perline, gioielli, tutto per l'arte. Perline, gioielli, tutto per l'arte. Guardate, fiori secchi, questo che cos'è? Ah, per fare le profumazioni, per creare le profumazioni. Questo per creare le ghirlande, io ne ho fatte diverse, è bellissimo, perché si possono fare personalizzate, secondo i propri gusti, i colori preferiti, secondo le stagioni. E poi basta comprare le basi e cambiare i fiori o le foglie, le decorazioni per stagione. Ne compri una e la cambi ogni volta che vuoi. Ecco qui, già pronto per St. Patrick's Day, che è a marzo. Vari stili, vari colori, stile marino, country. Ecco qui, per chi piace lavorare i ferri, questi sono enormi questi ferri, mai visti. Candele. Adesso vi faccio vedere la mia corsia preferita. Dov'è? Qui compro cose per casa troppo carine. Guardate che belle queste, guardate questo. No. Questo è proprio il mio genere. E' enorme. Guardate qui. 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 Penso che vi avevi fatto vedere tutto Almeno per oggi Bye bye